Ben trovati a tutti con l'appuntamento settimanale dell'informazione politica di TVR Teleitalia 7 Gold. Questi i nostri titoli. ERP, aggiornato il piano regionale di cessione del patrimonio. Spettro autistico, la regione garantisce la terapia ABBA. Carta dell'identità culturale della Toscana. E veniamo al primo servizio. È stato approvato l'aggiornamento del piano regionale di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni capoluogo di provincia. Le politiche abitative richiedono più risorse, mentre noi siamo di fronte a un governo che ha tolto le risorse per i fondi affitti, per l'amorosità incolpevole e che viene a fare lezioni su quelle che sono le necessità del sistema e che non sta mettendo soldi per fare nuove case popolari. Il tema ERP trova una risposta se si riescono a trovare risorse per aumentare questo patrimonio. Vendere il patrimonio a casa mia, vendere non vuol dire aumentare il patrimonio, ma vuol dire ridurlo, tant'è che noi i dati che ci hanno portato è che per comprare una casa nuova ci vogliono tre vendite. Questo è il rapporto che c'è tra le vendite, i prezzi ERP che sono acepolati e l'acquisto di nuovo alloggi. Quindi vuol dire impoverire il patrimonio ERP. e comunque sia al di là delle volontà di tutti sono tutte insomma quelle proposte che sono venute dall'opposizione sono proposte di bandiera perché se guardiamo il piano degli ultimi cinque anni negli ultimi cinque anni in Toscana erano messi nel piano vendita 4.500 alloggi quasi 10% del patrimonio complessivo di alloggi ERP erano vendibili 1.400 alloggi ne sono stati venduti 178 in cinque anni. queste persone scappano dalla guerra dalla fame dalla siccità e molto probabilmente non hanno niente nei loro paesi di origine molto difficoltoso l'attuazione di un accordo internazionale per accedere ai catasti dei paesi stranieri anche perché molto spesso in questi paesi o c'è la guerra o non ci sono catasti quindi una misura veramente inconsistente e superficiale e poi vorrei ricordare che di fronte a una misura come il Fondo Sociale per l'Affitto che riesce a dare una risposta maggiore a un maggior numero di famiglie il governo nel 2024 ha azzerato completamente il fondo e rimangono solo le risorse di regione e comuni quindi io vorrei capire come intendono risolvere il problema al di là di queste manifestazioni esclusivamente elettorali che parlano alla pancia delle persone senza spiegare la portata del problema Per poter accedere alle graduatorie ERP bisogna dimostrare di non avere proprietà immobiliari in Italia o all'estero questo controllo viene fatto sicuramente sui cittadini italiani ma è fatto in maniera difficoltosa a volte quasi impossibile nei confronti dei cittadini che provengono dall'estero perché non c'è l'accesso ai catasti esteri noi abbiamo proposto di fare dei protocolli di intesa con gli stati esteri con quelli dai quali arrivano il maggior numero di cittadini stranieri che poi fanno la graduatoria delle case popolari e poter fare questo diciamo controllo incrociato non era niente di straordinario è chiaro gli stati si restringono a quelli maggioritari quindi Romania Albania Tunisia Marocco Bulgaria non è che si deve andare a cercare lo stato dell'Africa subsahariana anche questa era una proposta di buonsenso ci dispiace che la sinistra sia indisponibile a accogliere anche le proposte di buonsenso che vengono da Fratelli d'Italia per quello che riguarda la votazione che c'è stata adesso siamo assolutamente d'accordo allineato al Partito Democratico cercare di mantenere il più alto numero di appartamenti ERP perché quello che interessa non è aumentare nel valore diciamo intrinseco ma avere un numero sufficiente da poter come dire lenire il bisogno di abitazione soprattutto tra le famiglie più fragili in questa regione noi siamo anche favorevoli alla vendita in alcuni casi soprattutto là dove ci sono condomini misti perché sono di difficile gestione nel senso che se noi abbiamo la minoranza dei millesimi dobbiamo sottostare chiaramente a quello che può è la maggioranza quando si decidono lavori di intervento cioè fare un tetto in un modo piuttosto che in un altro a un costo andare ad agire sulla struttura in un modo piuttosto che in un altro a un costo dobbiamo però sempre essere in condizione di dare abitazioni questo anche per legge e per norma che siano assolutamente conformi alle normative sulle abitazioni civili e con il secondo servizio di questa settimana parliamo di spettro autistico regione garantisce la terapia ABBA lo ha spiegato l'assessore regionale alle politiche sanitarie rispondendo a un'interrogazione dell'opposizione abbiamo raggiunto un testo che ha trovato il consenso di tutto il consiglio regionale un testo ragionevole che dice nella sostanza che date le complessità anche da valutare tra l'altro l'assessore ha chiesto alcuni interventi anche da parte del ministero la giunta faccia un atto che metta a sistema tutti gli interventi che riguardano l'autismo confrontandosi ovviamente anche con i livelli nazionali e nel frattempo si congeli sostanzialmente la situazione pregressa e quindi a quelle famiglie che usufruivano dei contributi per l'attività extra-lea previste dalle delibere del 2001 e del 2023 continuino a riceverlo fin quando la situazione non sarà chiarita è stato approvato ad unanimità dal consiglio regionale un mio atto di indirizzo affinché le persone che vivono nello spettro autistico possono continuare nelle loro terapie in particolare la terapia ABA e quindi tutti i percorsi anche paralleli a questo è un fatto anche di dignità perché nel 2023 erano stati negati i rimborsi e questo atto fa sì che ci sia anche una uniformità all'interno delle tre asle perché non tutte funzionavano allo stesso modo in tema di rimborsi e quindi si potranno avere quei rimborsi alle famiglie che vivono questi percorsi con figli appunto che vivono nello spettro autistico di poter avere rimborsi è un documento importante è un documento che rionosce dei diritti che le famiglie e soprattutto i ragazzi affetti dalla sindrome di autismo aspettavano la questione per quello riguarda per dire le risorse per sanare per lo meno le richieste che erano state fatte nel 2023 dalle famiglie con handicap soprattutto le famiglie di figli autistici la questione del percorso ABA percorso ABA che il 31 maggio vedrà a concludere il tavolo voluto dal ministro a Roma per capire se il percorso ABA è un percorso che dà dei frutti positivi possiamo dire che ieri in un'audizione il governatore ci ha detto che tutte le persone che hanno incontrato hanno detto che questo è ha dato anche una disposizione che dice che là dove fino ad oggi sono stati riconosciuti questo tipo di servizio si continua a farlo laddove invece non è stato riconosciuto in assenza di una direttiva precisa da parte del governo questo non avvenga il 31 maggio si chiarirà tutto però questo documento esce dal consiglio regionale la consideriamo una vittoria perché sono mesi che noi ci spendiamo in realtà io sono anni che mi spendo sull'autismo sia per quello riguarda la questione didattica dobbiamo considerare che in Toscana mediamente ogni 120 bambini nasce un bambino affetto ad autismo fortunatamente le diagnosi sono sempre più precoci questo mette in condizione questi ragazzi di essere seguiti subito diciamo dall'infanzia più tenera una grande vittoria non di Fratelli d'Italia ma di tutta la comunità toscana perché finalmente abbiamo ottenuto risposta all'assessore Bezzini in merito alle terapie ABA le terapie che vengono somministrate ai bambini tra 0 e 7 anni che presentano forme di autismo e almeno fino a eventuale pronunciamento contrario del Ministero cioè qualora il Ministero dovesse non riconoscere l'utilità e la veridicità delle terapie ABA fino ad eventuale pronunciamento contrario la Regione Toscana proseguirà a sovvenzionare quindi a rimborsare ai genitori dei bambini dei bimbi e delle bimbe autistiche le ore settimanali di terapia ABA in tutta la Regione Toscana quindi non soltanto per i residenti nel territorio dell'azienda sanitaria sud-est ma in tutta la Regione Toscana quindi questa è sicuramente una buona notizia una buona notizia per tutte quelle famiglie che devono fronteggiare spese enormi perché questo tipo di terapie costano tantissimo e occupano tantissime ore settimanali ma veramente da quello che ci raccontano e ci hanno raccontato i genitori sono un qualcosa di incredibile per i risultati che riescono a produrre su questi bambini e su queste bambine quindi da oggi possiamo dirlo con soddisfazione ci sono volute tante interrogazioni tante emozioni impegni un po' di tutti ma fino a eventuali pronunciamento che speriamo non arrivi mai contrario da parte del Ministero la Regione Toscana proseguirà in tutto il territorio a garantire il finanziamento delle terapie ABA e concludiamo questa puntata con un servizio dedicato alla Carta dell'identità culturale della Toscana 200 gli studenti di 10 scuole toscane sono stati coinvolti nel progetto Carta dell'identità culturale della Toscana per creare itinerari alla riscoperta di cultura e risorse della nostra regione 200 ragazze 200 ragazzi toscani proveranno a leggere con le loro lenti la Toscana di oggi la Toscana è terra di arte terra di cultura è una terra che della sua identità ne ha fatto storia e presente ma la Toscana è anche futuro e attraverso i loro occhi proveremo insieme e permettetemi di ringraziare il Vice Presidente Scaramelli per il lavoro che ha portato avanti proveremo a raccontare un'altra Toscana lo faremo con scambi tra territori lo faremo provando a fare in modo che ogni ragazzo e ogni ragazza si prenda un po' cura della nostra bellissima regione attraverso i social attraverso il racconto ma anche attraverso la condivisione i giovani che sono protagonisti ringrazio il Presidente Mazzeo della possibilità che mi ha dato di organizzare e gestire questa progettualità fatta per i ragazzi per la generazione Z che diventa protagonista di un percorso culturale identitario della Toscana ragazzi che si conosceranno nell'ambito dei loro percorsi scolastici alla scoperta dei territori della Toscana e treranno in relazione con altri ragazzi e a loro volta saranno in grado di ospitare altre scuole un intescambio fra province un intescambio fra scuole una collaborazione molto profrica con l'ufficio scolastico regionale e con la fondazione Sistema Toscana è la Toscana che si mette a disposizione dei giovani e rende i ragazzi protagonisti e l'esperienza più bella sarà a mio avviso poi raccontare quello che loro avranno vissuto verrà fatto con canali moderni e tecnologici saranno loro stessi i protagonisti di un racconto della loro identità e della loro storia quindi raccontare e conoscere la propria identità soprattutto avere una relazione è un progetto che nasce da un'intuizione quella di costruire le relazioni e oggi credo che sia l'elemento più importante sul quale dobbiamo lavorare la solitudine delle persone che pensa di essere in relazione però se manca la dimensione relazionale umana dell'intescambio anche quella mediata da un social o da uno schermo può diventare un elemento che allontana le persone questo è un progetto per fondazione importante perché come sapete la regione ci ha mandato a comunicare a divulgare e promuovere l'identità diffusa della regione toscana questo è un progetto ideale perché lavoriamo con 10 scuole oltre 208 studenti coinvolti in itinerari che attraversano veramente tutta la Toscana pensiamo vedremo nel calendario degli eventi che solo 4 sono nei capoluoghi le scuole il resto sono nella Toscana più diffusa e anche gli itinerari riguardano i temi veramente più ampi da quelli storici a quelli ambientali paesaggistici ricordano i personaggi siccome ricordano i singoli luoghi naturali è un progetto molto interessante che ha coinvolto 10 scuole una ognuna proveniente dalle varie province della regione ed è un progetto che ha alla base uno scambio culturale tra ragazze e ragazzi che a seconda dei casi si trovano ad essere promotori del proprio territorio verso la scuola proveniente dall'altra provincia e poi a loro volta ospiti in un incrocio che vede scambiarsi esperienze conoscere quello che è la realtà culturale turistica e soprattutto all'interno di un progetto di sviluppo sostenibile che afferisce alla legge del 7 febbraio 2023 è un progetto che segna anche il rinnovato unità di intenti tra l'ufficio di presidenza del consiglio regionale della Toscana l'ufficio di vicepresidenza la fondazione Sistema Toscana e la scuola che si è adoperata per mettere in contatto i vari istituti e per supportarli nella fase logistica dei primi momenti di scambio e qui si conclude l'appuntamento con l'informazione politica l'approfondimento settimanale di TVR Teleitalia 7 Gold grazie per averci seguito e ci vediamo la prossima settimana Sistema Toscana Autore dei sorrisi